Sapevi che più del 99% della popolazione non sa programmare? Eppure siamo in un momento in cui la richiesta per gli sviluppatori è in continuamento servono sempre più applicazioni e siti web da creare. Bene, se questa è assolutamente la realtà, dall'altro lato ci sono invece aziende che lavorano giorno dopo giorno per cercare di creare un mondo in cui la figura dello sviluppatore è meno necessaria. Sto parlando del movimento no-code, composto da progetti ed aziende che danno a tutti gli strumenti per poter costruire automazioni, siti web, applicazioni e molto altro. Spesso sono delle piattaforme che fanno da tramite, traducendo la parte complessa, che è il codice se vogliamo, in delle interfacce grafiche che invece sono facili e intuitive da utilizzare. Una forma evidente di no-code sono i vari costruttori di siti web come Wix o Elementor di WordPress che ti permettono di selezionare dei blocchi predefiniti e in maniera intuitiva, senza appunto conoscere alcuna forma di codice, senza avere esperienza precedente, mettere insieme un semplice sito web statico che poi viene pubblicato sul web. Questa appunto è una forma, se vogliamo, anche semplice di no-code e sarà interessante per te sapere che invece al giorno d'oggi si possono costruire casi molto più complessi. Ci sono aziende che riescono a replicare la stessa tecnologia dietro aziende come Airbnb, Netflix, chiaramente su una scala minore, ma in questo modo riescono a testare, iterare velocemente su quelle che sono le loro idee, i loro progetti aziendali. Facendo un passo ancora più indietro, riusciamo a trovare forse uno degli esempi più clamorosi, più stravolgenti di no-code. E questo esempio è Excel. Pensate alla rivoluzione che Excel è stata per il mondo del lavoro, pensate a tutte le persone che oggi riescono a gestire, a manipolare dati senza conoscere linguaggi di programmazione o di interrogazione che sono molto più complicati di un qualcosa che invece si riesce a imparare anche durante il corso delle CDL. Lungi da me dire che non sia un qualcosa di utile per la vita quotidiana di moltissime persone imparare SQL, Python, R, insomma tutti questi programmi che potrebbero sostituire, possono sostituire sicuramente alcuni utilizzi di Excel, ma decisamente non è un qualcosa alla portata di tutti. E questo è veramente, secondo me, il cuore del no-code. Creare un qualcosa che dia la possibilità a tutti, che democratizzi l'accesso a un determinato tipo di funzioni. Un modo utile e importante per capire la diffusione del no-code, perché oggi, perché questa crescita così importante in questo momento, è anche quello di capire il modo in cui si è evoluto il modo di comprare software. Pensiamo infatti agli anni 90 con soluzioni che venivano installate localmente, che erano costose, complesse, sia nell'installazione che nel mantenimento. Poi, dopo gli anni 2000, con Salesforce, che forse è stata l'azienda pioniera nel settore cloud, quindi delle soluzioni che potevano essere implementate online, che erano sicuramente più facili da gestire, più agili per le aziende. Una decina di anni dopo siamo poi arrivati al product-led growth, quindi non solo le soluzioni erano in cloud, ma non era più necessario che a comprarle fosse il VP di sales, fosse il CEO, ma c'erano persone all'interno dell'azienda che cominciavano ad utilizzare il tool, che poi magari diventava virale, diventava una situazione di multiplayer. Comunque, se voleste approfondire, ho fatto un video su product-led growth, che cos'è, cosa significa. Lo trovate nelle schede e potete approfondire. Ma ad oggi abbiamo fatto un altro step, non siamo più al product-led growth di Slack o di Dropbox, siamo arrivati a prodotti come Airtable, come Notion, come Canva, prodotti in cui non solo c'è la componente appunto di product-led, ma c'è una componente di customer-built. Tutti noi partiamo con lo stesso account di Canva, uguale, ma poi ci costruiamo cose completamente diverse. Notion è un altro ottimo esempio. Notion è fondamentalmente una tela bianca su cui ognuno può fare, scrivere diverse cose. Io per esempio ci ho scritto anche lo script di questo video, ci gestisco la programmazione del video, mentre magari altre persone ci gestiscono la lista della spesa oppure ci scrivono un diario. Insomma, sono dei prodotti in cui l'attività dell'utente nel creare il prodotto stesso è fondamentale. Siamo in un'epoca in cui gli acquirenti non vogliono solo informarsi, apprendere e prendere decisioni sull'acquisto senza magari il supporto di un team di venta. Supporto poi insomma dipende. Ma vogliamo anche sviluppare quello che è il prodotto stesso in maniera autonoma. E questo è assolutamente incredibile ed è perfettamente in linea con il concetto di no-code. Infatti la maggior parte delle piattaforme che si occupano di sviluppo no-code hanno proprio al cuore questa idea del cliente, dell'utente che è in grado da zero di costruire un qualcosa che sia personalizzato per loro, magari partendo da dei template sicuramente, però appunto adattandola alle proprie esigenze. La voglia di fare questo video è nata mentre ero a Parigi, al No-Code Summit, in cui tantissime aziende e persone del settore si sono incontrate anche per discuterne un po' il futuro. La cosa interessante è che nonostante questi prodotti di no-code stiano raggiungendo un livello di maturità estremamente elevato, almeno secondo me c'è stato uno sviluppo incredibile del mercato negli ultimi anni, la crescita del mercato stessa è ancora tra il 20 e il 30%, insomma queste sono le stime di crescita annuale composta per i prossimi 5-10 anni, e per mettere un po' le cose in prospettiva, appunto si va da un 20-30% per il mercato del no-code che è ancora agli albori se vogliamo, ha un mercato dell'e-commerce per esempio, che invece ha come prospettiva di crescita numeri intorno al 15%, e trattandosi di un mercato estremamente più grande, estremamente più stabile, più solido, questo insomma un po' fa pensare. Quindi sicuramente c'è ancora un mondo vastissimo da esplorare, ancora tantissime persone che non sanno del no-code, non conoscono queste opportunità, e che quindi magari devono continuare a fare affidamento su un team di sviluppo all'interno della propria azienda, che è sempre pieno di lavoro, con troppo lavoro da fare, e quindi magari non muove avanti determinati progetti, oppure si spende tantissimo tempo su processi manuali, senza sapere come e cosa automatizzare. Proprio ieri parlavo con un amico, che ho conosciuto al no-code summit, che adesso è venuto a Lisbona, e mi ha raccontato di come il suo team, originariamente era composto da 12 persone, un team che si occupava di fare selezione di startup per il fondo di investimenti dove lavora, e ad oggi quel team si è ridotto a due, le altre 10 si sono spostate in altre aree del processo, perché tutto il resto è stato coperto da piattaforme costruite con il no-code, processi di automazione, insomma ci sono veramente tantissime opportunità di ottimizzazione in tantissime aziende che sono ancora indietro dal punto di vista tecnologico. Un altro aspetto interessante è che nonostante si tratti di un mercato ancora nei primissimi giorni della sua vita, ci sono varie aziende che hanno una storia già affermata, già interessante. Un esempio che mi viene in mente, perché è un'azienda con cui ho lavorato, un'azienda di Lisbona fondamentalmente, è OutSystems, che già ha raggiunto una valutazione superiore ai 10 miliardi di dollari, quindi un'azienda affermata, che lavora però nell'ambito low-code, che è estremamente legato al no-code, è una via di mezzo tra il no-code e lo sviluppo, quindi sicuramente è più tecnico. Ci sono dei veri e propri sviluppatori di OutSystems e di tante altre soluzioni simili, quindi è sicuramente un caso interessante, specie per le aziende enterprise che usano queste soluzioni. Un altro esempio che mi viene in mente è quello di Bubble. Bubble è forse stata la prima grande azienda di no-code, è nata ormai 10 anni fa, però solo pochi anni fa ha cominciato veramente a scalare aggressivamente e a raccogliere fondi per farlo. Quindi si sta sicuramente arrivando ad un punto di inflazione interessante in questo mercato. Per esempio la stessa Bubble si trova in una posizione particolare, in cui essendo stata appunto una delle primissime aziende in questa realtà, è un po' una via di mezzo tra un prodotto più complicato e un prodotto semplice e intuitivo. È sicuramente una delle piattaforme no-code più complesse in assoluto, che ti permette di fare anche le cose più complesse. Se andate sul loro sito o su altri siti web è pieno di esempi su come costruire una versione di Airbnb, di Netflix, di Uber, insomma tante applicazioni che sono complicate da gestire tramite Bubble, però è anche un tool che ti richiede magari settimane, a volte anche mesi di studio, di lavoro per creare qualcosa. Quindi sicuramente si riduce il tempo da mesi a settimane, appunto, oppure da anni a mesi, e si riduce la quantità di team. Si aumenta la percentuale di persone che sono in grado di costruire qualcosa in Bubble studiando, piuttosto che non costruire qualcosa di puro codice studiando, però si trovano appunto in questo strano mezzo, perché dall'altra parte invece stanno nascendo tantissime altre aziende in ambito no-code che vogliono essere ancora più semplici, ancora più intuitive, ma con la stessa tipologia di potenza. Chiaramente è difficile, è un lavoro su cui ancora c'è da fare tanto, però secondo me questo è veramente il prossimo step che porterà la democratizzazione del no-code a un livello ancora più alto. Ecco, qui faccio un disclaimer perché una di queste aziende è software e io lavoro per loro, come ho già detto in alcuni video, però questo discorso vale anche per alcuni dei nostri competitor, come per esempio Glide, Stacker, tutte aziende che cercano di rendere la creazione di piattaforme, di web app, di applicazioni, ognuno poi magari ha un target diverso, accessibile a tutti, neanche studiando quelle settimane che invece magari sono necessarie su Bubble. Dei prodotti che cercano di appiattire il più possibile la curva di apprendimento iniziale. E questo, ripeto, non vuol dire necessariamente limitare le funzionalità, fare in modo che le opportunità di costruire siano ridotte, ma semplicemente rendere il processo talmente facile, talmente intuitivo, talmente guidato magari, oppure creare dei template talmente avanzati che le persone sono in grado di, magari in due ore, costruire un prodotto completamente funzionante che poi possono utilizzare per testare la propria idea, per risolvere appunto un problema di automazione magari all'interno della propria azienda, per creare un tool di gestione interna che può essere per vari dipartimenti, può essere per HR, può essere per product, può essere per customer support. E secondo me questo veramente è il motivo per cui tutti quanti dovrebbero giocare un po' con dei tool no code. Perché danno la possibilità a chiunque di risolvere un po' quei fastidi, in inglese magari si direbbe, no, quei pruriti, che ogni giorno ci vengono, che magari vorremmo un aiuto per risolvere, però sappiamo che il nostro team di sviluppo all'interno dell'azienda è dedicato solo a determinate cose, oppure sappiamo che anche se dovessero avere la possibilità di darci una mano ci vorrebbe troppo tempo perché il loro backlog è infinito, perché ci sono appunto pochi sviluppatori al mondo e questo rende anche il loro costo estremamente più alto. Bene, secondo me se siete quel tipo di persone a cui piace sporcarsi le mani, a cui piace mettersi in gioco, provare cose nuove, vale la pena provare alcuni di questi tool e darci un'occhiata a vedere cosa funziona per voi. Poi ci sono vari livelli, se vi interessa la parte di automazione, sicuramente Make, Zapier sono i posti da cui iniziare, se magari vi interessano cose più semplici, quindi non volete costruire subito delle web app, potete iniziare con dei landing page builder, se volete fare semplicemente dei siti statici, insomma ci sono vari livelli di no code, ho sentito persone applicare no code a tantissime industrie, a tantissimi casi differenti, io mi riferisco principalmente a piattaforme che vi permettono di sviluppare applicazioni complesse, complicate, fino a un certo livello almeno. La metafora con cui vi lascio è presa dallo speech che la CEO di Software, la mia capa, ha fatto al No Code Summit di Parigi, e in questa metafora lei ha paragonato il movimento no code e la realtà invece dello sviluppo tradizionale un po' al mondo della fotografia. Lei tra l'altro è una sviluppatrice, insomma dura e pura, quindi sicuramente parla con condizione di causa. Siamo in un mondo ad oggi in cui tutti noi abbiamo questo nella nostra tasca, che è fondamentalmente una piccola macchina fotografica. Questo non vuol dire che non abbiamo più bisogno dei fotografi professionisti, non vuol dire che non abbiamo più bisogno delle macchine fotografiche professionali, come quella che infatti magari sto usando io per fare questo video, non sto usando il telefono. Semplicemente i fotografi professionisti oggi non sono più necessari per fare le foto alle famiglie che si vestono bene e vanno in chiesa, non servono più per queste foto intime, quotidiane magari, ma si possono specializzare di più in situazioni più particolari, in situazioni più complesse, se vogliamo anche più interessanti. Secondo me questo rappresenta esattamente il modo in cui no code può aiutare anche a migliorare il mondo in cui viviamo. Dare la possibilità alle persone che sono sviluppatori, alle persone che sanno come creare piattaforme che scalano in maniera ottimale, che possono costruire anche le piattaforme di no code, perché parliamoci chiaro, queste piattaforme dietro hanno la necessità di un grandissimo team di sviluppo tech per diventare semplici da usare dal lato dell'utente invece. Sicuramente non vanno a rimpiazzare quel tipo di figura, ma si può cercare di shiftare la necessità di sviluppatori su prodotti in cui ce n'è veramente bisogno e invece cercare di gestire tutti quei progettini più semplici, anche non semplici però magari che si possono costruire velocemente tramite no code, appunto con qualcosa di molto più scalabile, di molto più accessibile. Io in descrizione vi lascio i link a vari strumenti, vi ricordo chiaramente che non è sponsorizzato, però lavorando per software ho chiaramente dei conflitti di interesse, quindi il link sarà in descrizione, ma vi aggiungo anche il link di encode.it che è, ho conosciuto i fondatori appunto a questo No Code Summit di Parigi ed è forse una delle pochissime realtà italiane che parla di questo tema, mi fa piacere parlare di loro, hanno anche un canale YouTube, hanno una newsletter, insomma forse collaboreremo anche un po' in futuro, o in passato quando starete vedendo questo video, chi lo sa, quindi date un'occhiata, io vi ringrazio per avermi seguito, se avete domande, commenti sono a disposizione appunto per rispondervi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!